Quanti di noi vorrebbero essere volontari in Africa o in Sud America ma non hanno il coraggio di lasciare tutto e partire? Quanti vorrebbero perlomeno una volta nella vita vivere un'esperienza da volontario per regalare aiuto e sorrisi ai bambini che soffrono? Per tutti coloro che sognano un approccio con questo mondo, l'organizzazione Save the Children dà la possibilità di essere protagonista di un viaggio virtuale in cui mondi meravigliosi ma poverissimi. Bari sarà protagonista per dieci giorni della campagna Everyone Save the Children contro la mortalità infantile lanciata il 9 ottobre scorso a Roma. Oltre un mese di eventi e attività di sensibilizzazione raccolta fondi che vede l'organizzazione impegnata in prima linea per dire basta alla mortalità infantile. 6,3 milioni di bambini sotto i 5 anni continuano a morire ogni anno nel mondo, molti dei quali per malattie banali, prevenibili e curabili come una diarrea o una polmonite. L'inaugurazione si terrà oggi in Piazza Libertà a Bari dove verrà inaugurato il nuovo villaggio Everyone dedicato alle famiglie e ai bambini, alle scuole e alle persone di ogni età e che rimarrà aperto gratuitamente al pubblico tutti i giorni dalle ore 10 alle 19 fino a domenica 2 novembre. Si tratta di un grande spazio di 170 metri quadrati pensato per coinvolgere attivamente tutti i visitatori attraverso installazioni interattive ed esperienze sensoriali ludico-educative per poter diventare operatori di Save the Children per un giorno e sperimentare le semplici soluzioni che possono salvare la vita a milioni di bambini. Il villaggio sarà animato dalla presenza dei bambini di alcune scuole primarie della città tra cui i plessi San Francesco e Don Orione dell'Istituto Comprensivo IEPG1 e i plessi Rodari e Mameli di EPG2 che effettueranno una serie di visite guidate con gli educatori di Save the Children. In occasione della tappa barese verranno anche rilanciati i principali contenuti e i dati del rapporto Nati per Morire Indici di rischio mortalità mamma-bambino realizzato da Save the Children l'organizzazione dedicata dal 1919 a salvare i bambini e a promuovere i loro diritti in tutto il mondo con l'obiettivo di misurare per la prima volta le difficili condizioni di vita e di salute delle madri.